Riunite oggi in tutte le piazze italiane tutte le sigle dei maggioritari sindacati di polizia che rappresentano il comparto sicurezza, contro la manovra del governo che prevede numerosi tagli alle forze dell'ordine. A Padova i sindacati si sono riuniti davanti alla prefettura, hanno chiesto ai cittadini una firma per la sicurezza e la legalità, contro la riduzione delle volanti per il controllo del territorio, per eliminare sprechi nella pubblica amministrazione e contro i tagli agli stipendi di coloro che devono garantire la sicurezza del paese. Segretario, una manovra di lacrime e sangue. Cosa chiedete al governo? Oggi è un giorno di protesta, di protesta per il SAP, il SILP e tutte le maggiori organizzazioni sindacali che rappresentano il comparto sicurezza. All'indomani della firma di questo decreto che noi abbiamo definito una vera e propria mannaia dinanzi al diritto di sicurezza dei cittadini. Per quanto ci riguarda noi chiediamo che vengano assolutamente votati quegli emendamenti che escludono il comparto sicurezza da dei tagli che andranno sicuramente a compromettere in primi quei servizi che sono necessari per garantire un livello sereno di sicurezza dei cittadini. Mi riferisco al controllo del territorio, mi riferisco alle indennità che occorrono per garantire l'ordine e la sicurezza durante le manifestazioni. Per cui noi chiediamo al governo di fare una netta retromarcia nei confronti, anche purtroppo, ed è la prima volta che succede, di provvedimenti che andranno a mettere le mani sul portafoglio dei poliziotti. Noi facciamo appello ai cittadini anche attraverso una raccolta di firme, oggi a Padova, ma in realtà in tutte le altre città e capoluoghi, proprio per sviluppare questa nostra problematica a livello mediatico affinché siano in primisi i cittadini a rendersi conto che c'è veramente a rischio la loro sicurezza in funzione delle risorse che verranno tagliate al comparto sicurezza, e cioè polizia, carabinieri e tutte le altre forze di polizia. Presente è anche l'assessore provinciale alla sicurezza Enrico Pavanetto, vicino ai cittadini e alle forze dell'ordine. Da assessore provinciale alla sicurezza e all'immigrazione, ma anche da amministratore del centro d'esca, un richiamo al governo nazionale perché, soprattutto nei confronti del comparto sicurezza, malgrado questo periodo proprio di lacrime e sangue, così come è stato definito prima, questa manovra così importante, ci sia un occhio di riguardo. I cittadini hanno bisogno di sicurezza, la sicurezza la otteniamo anche dalla soddisfazione degli operatori di polizia e nell'evitare i tagli che in qualche modo, anche rispetto ai mezzi, potrebbero vedere meno presenza sul territorio da parte delle forze dell'ordine.